Anna, mi ascolti? Io vorrei tanto farmi una chiacchierata con quei due gentiluomini, come si chiamano? Mitat e Neritan. Dove li trovo? Usano un appartamento in Ligia d'Almazia, come casa d'appuntamento. E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! Forza in macchina! Lo conosco, è sposato con tre figliate che è be... Pure. Andiamo. Mitat e Neritan si è trovato, lasciamo qualcuno dei guardia qua. Chi sono? Lauro, vi addonate! Mi bisogna il capitano. Mi fermo! 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 Non mi muovo l'acqua. Butta la pistola! Butta la pistola! Fermo! Butta la pistola, lo ammazzo! Lo ammazzo! Se fai così è peggio, stai calmo! Lo ammazzo, ho detto! Bisogna non ti preoccupare. Lo ammazzo! Complimenti, maresciallo. Un'ottima copertura. Grazie. Non è la prima volta.